56 pagine per raccontare 10 anni di attività amministrativa possono sembrare davvero poche per rendicontare alla comunità cittadina ciò che è stato fatto in due consigliature, ma il sindaco di Terlizzi, Nini Gemmato, ha voluto elencare solo i principali interventi svolti durante i suoi mandati e citarne alcuni ugualmente meritevoli. A Terlizzi, nell'altro esterno della Pinacoteca di Napoli, il sindaco ha presentato la pubblicazione Ora ancora a Terlizzi, 10 anni con Nini, un libro dedicato al futuro, a tutto ciò che è stato pensato in questi 10 anni, ha detto il primo cittadino. Bisogna guardare al futuro della città, una parte di questo opuscolo è dedicata al futuro, è dedicata a ciò che sarà, è dedicata a tutto ciò che noi abbiamo pensato per l'avvenire della nostra comunità. Abbiamo oggi delle opportunità che ieri non c'erano, bisogna coglierle fino in fondo, bisogna saper sfruttare fino in fondo tutte le opportunità che il piano nazionale di ripresa e resilienza oggi fornisce ai comuni per poter disegnare quello che è il futuro della nostra comunità, per poter tracciare una strada. Credo che un'amministrazione debba sempre far vedere il percorso futuro alla propria comunità. Un libro corredato di tante fotografie che raccontano per certi aspetti la vita politica della famiglia Gemmato, disponibilità, umiltà e presenza sul territorio, le caratteristiche che ci contraddistinguono, ha detto l'onorevole Marcello Gemmato. Un libro per dire che negli ultimi dieci anni tanto è stato fatto per Terlizzi da parte dell'amministrazione Gemmato, dieci anni che io definisco straordinari, che hanno segnato il passo rispetto a quello che in precedenza era stato fatto. Di un libro denso di fotografie, denso di concetti, denso di moralità, si chiude un'esperienza di dieci anni senza che questa amministrazione sia stata attinta non da un arresto, non da un'inchiesta, ma neanche da un avviso di garanzia. Immagino che di questi tempi sia un elemento di importante e straordinaria rappresentazione esterna di una compagine governativa che ha ben amministrato Terlizzi.